Quando rispondo, però. La mia prima gara a livello del mondo era a Mugello nel 2013. È vero, perché era a Misano. Ho riuscito con la numero 9 per la mia prima moto 2 gara a Misano. Credo che sia vero. Sì, sia vero. Ho scorrato la mia prima gara a livello del mondo a Qatar nel 2016. È vero. La mia prima gara a Moto2 è venuta all'inizio del mondo. Sì, sia vero. Malasia 2018. Ho mai vinto una gara a livello. È vero. Perché ho vinto in Tailandia e in Tailandia. In Moto2. In 2021, ho stato l'unico MotoGP che finisce ogni gara. È vero. Tutti i miei amici sono parte della del VOR46 Academy. No. Beh, beh, beh. Beh, beh. Sì. 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 Sì.